Dincecco, si parla tanto di rimpasto al comune di Pescara, di cariche, di assessori che potrebbero andare via, di altri che potrebbero arrivare e così la Lega ha chiesto un rimpasto, una verifica di giunta? Credo che si debba parlare più di cose da fare, penso che siamo alla fine di una stagione estiva, dobbiamo a metà mandato, a metà legislatura al comune di Pescara, dobbiamo fare un punto delle cose fatte, delle cose da fare perché abbiamo la seconda parte di mandato nella quale dobbiamo accelerare su alcuni punti importanti, probabilmente questo anno, anno e mezzo di pandemia, ci ha costretto ad occuparci di altri temi e adesso invece il momento è il punto di arrivare a ripartire su alcune tematiche sulle quali avevamo puntato in campagna elettorale e sulle quali oggi ci dobbiamo sedere tutti i compatti in maggioranza per superare appunto questa fase di pandemia e continuare il lavoro svolto e la strada che dobbiamo appunto intraprendere per arrivare a fine legislatura. In tutto questo chiaramente è ovvio che è naturale e normale immaginare che a metà mandato si faccia un quadro di chi ha fatto meglio, di chi ha fatto di più, di chi ha fatto di meno, di chi deve fare meglio, di chi può migliorare, tutte queste cose fanno parte di un discorso più ampio che riguarda non tanto le poltrone e le casacche ma riguarda le cose da fare per la città di Pescara. Voi chiedete un altro assessore? Il tema non sono gli assessori, qui poi si riduce tutto a questo. Noi siamo convinti che bisogna accelerare su alcune questioni amministrative importanti. Pescara ha bisogno di migliorare l'aspetto della manutenzione della città, penso che dobbiamo migliorare la pulizia della città. Ci sono alcune questioni che probabilmente a causa della pandemia abbiamo non messo da parte ma sulle quali ci siamo confrontati di meno, concentrati di meno perché c'erano altre necessità. Abbiamo organizzato il miglior hub vaccinale probabilmente della regione Abruzzo, purtroppo le energie poi si sono spese più su altre cose e meno su altre. Adesso è il momento di riprendere a ragionare su quelli che erano i punti più importanti della nostra campagna elettorale. Su questo ci dobbiamo fermare, ci dobbiamo riflettere e poi alla luce di quello che decideremo tutti insieme bisognerà fare anche una riflessione sulla composizione totale. Grazie